Buongiorno a tutti, ben arrivati. Buongiorno ai nostri ospiti che vi presenterò fra poco, buongiorno a tutti coloro che ci seguiranno. Allora, io qualche giorno fa, presentando questo appuntamento sulle pagine del secolo XIX, mi ero soffermata sul titolo proprio dell'incontro, Una finestra sulla realtà, perché secondo me ci sono due atteggiamenti per mettersi porsi di fronte a una finestra. Uno è quello di restare dietro al vetro della finestra, possibilmente chiusa, ben chiuse, sigillata e guardare. E l'altro è spalancare la finestra e permettere che questo osservatorio privilegiato crei proprio un rapporto a doppio senso. E quindi possibilmente o scendere giù da quella finestra oppure lasciare che la realtà entri. E scrivevo che appunto il Consorzio Tassano Servizi Territoriali ha sicuramente il secondo atteggiamento, cioè una realtà che è sempre stata attenta alla comunità, al territorio. E devo dire assolutamente cosa la caratterizza questo senso di accoglienza. E vorrei partire proprio da qui per ringraziare chi mi ha invitata oggi a essere qui con voi, ovvero Simona in primis, poi Maurizio e poi Lucia. Perché ritrovarvi e stare con voi, chi conosco meglio, chi conosco poco, chi non conosco affatto. Però il sentimento è sempre quello, non ci si sente proprio accolti e membri di un qualcosa che si sta muovendo e si mette a servizio degli altri. Non mi dilungo perché non sono certo io oggi che devo parlare, ma sono qui per far parlare proprio i soggetti interessati di questa osservazione di una realtà complicata. Perché in questo momento storico così difficile e delicato ci dobbiamo inserire anche in quello che è il soggetto invece di questo appuntamento, ovvero l'agenda 2030. Quindi oggi sostanzialmente siamo qui a parlare di quelli che sono gli obiettivi che ci pone questa agenda, che pone a tutti peraltro. Non è un qualcosa che ci vola sulla testa senza coinvolgerci in prima persona, però un'agenda che si inserisce in un momento estremamente delicato come quello della pandemia, dal quale non siamo ancora fuori e quindi dobbiamo vedere oggi come non perdere la capacità di visione e di sguardo sul futuro in un momento che invece nel quale la forte tentazione sarebbe quella un po' di chiudersi a riccio e aspettare che passi la tempesta. Quindi vorrei sentire proprio da voi, sentiremo oggi direttamente da voi e partiremo proprio da Simona Rizzi, che è presidente del Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Insomma, oggi che cosa ci farete vedere da questa finestra e come possiamo aprire questa finestra anche in rapporto appunto a quello che l'agenda 2030 ci pone come obiettivi da raggiungere. A te Simona, grazie. Grazie, grazie Paola, buongiorno a tutti e grazie a tutti coloro che hanno accolto il nostro invito. Sì, la nostra finestra sulla realtà prende proprio il via oggi partendo da quella che è stata la nostra riflessione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030. Questa agenda ormai ha sei anni di vita perché è stata sottoscritta nel settembre del 2015 da 193 paesi, tra cui delle Nazioni Unite, tra cui il nostro paese, l'Italia. È un vero e proprio programma di azione per far sì che tutti i paesi condividano l'impegno a garantire un presente ma anche un futuro, soprattutto un futuro migliore al nostro pianeta e alle persone che lo abitano. I cinque temi fondamentali che abbiamo di fronte, che l'agenda ci pone, sono le famose cinque P, persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. E l'agenda individua 17 obiettivi da raggiungere per affermare un nuovo modello di sviluppo, un modello di sviluppo integrato e sostenibile, integrato nelle tre dimensioni, che sono la dimensione ambientale, certamente, ma non solo, quella economica e quella che a noi preme in modo particolare la dimensione sociale. In questa nostra riflessione noi abbiamo individuato, abbiamo scelto cinque, sei, scusate, di questi obiettivi sui quali andiamo a focalizzare l'attenzione oggi. L'obiettivo tre, salute e benessere. Il quattro, istruzione di qualità. L'obiettivo cinque, parità di genere. L'obiettivo otto, lavoro dignitoso e crescita economica. Il decimo, ridurre le diseguaglianze. E l'undicesimo, città e comunità sostenibili. Sono obiettivi che il consorzio sente molto vicini. Sentiamo di agire in coerenza con questi obiettivi. Come diceva Paola, la nostra è un'impresa sociale di comunità, impegnata a promuovere progetti e servizi in un'ottica di sviluppo sociale e di promozione del benessere di tutta la nostra comunità, quella nella quale operiamo. Lavoriamo da sempre sui temi dell'inclusione sociale per tutti, in particolare delle persone più deboli. Crediamo nella formazione continua, nella valorizzazione delle competenze e delle professionalità. È connaturata in noi, nella nostra storia, l'attenzione alle pari opportunità e all'aiuto e al supporto concreto al lavoro delle donne e al tema dell'armonizzazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro che è fondamentale. Crediamo moltissimo nella qualità, nella qualità del lavoro, nella qualità dei servizi offerti. Investiamo tantissimo in sistemi di gestione aziendale e in certificazioni di processo che ci supportano nel nostro agire. Mi riferisco alla responsabilità sociale d'impresa, alla salute e al benessere, alla sicurezza del lavoro, sul lavoro, alle tematiche ambientali, alla sicurezza alimentare e in generale alla qualità. Crediamo nella rendicontazione non finanziaria. Ci impegniamo infatti da anni nella redazione del bilancio sociale e nella valutazione di impatto del nostro lavoro sulla comunità. Crediamo in una parola, in un'economia delle relazioni e puntiamo moltissimo sulla collaborazione tra più soggetti e sulla coprogettazione. Ed è per questo che TST non è solo un'organizzazione che lavora per la coesione sociale, ma si pone come un promotore di confronto e di dialogo sul tema del progresso sociale. Ecco perché questa finestra sulla realtà e questo scambio di cui Paola ben parlava nel presentarci. vuole essere, permettetemi anche, davvero un segno di attenzione per il nostro territorio. È una proposta di lavoro che ci vedrà nei prossimi mesi, impegnati a organizzare dei momenti di incontro con i diversi protagonisti del nostro contesto socio-economico sui temi che gli obiettivi dell'agenda 2030 ci pongono, ci propongono e sui quali riteniamo non sia sufficiente fare una riflessione, sebbene sia molto importante, quindi ci impegniamo a fare una riflessione su di essi, ma ci impegniamo a prenderli a riferimento proprio per le nostre scelte. Al termine di questo percorso il Consorzio darà una restituzione al territorio tramite un documento di sintesi che appunto restituirà ciò che è emerso da questi incontri, da questi confronti, non solo dal punto di vista dell'analisi dei bisogni, ma anche delle strategie e degli strumenti che insieme possiamo mettere in atto per affrontarli. Una proposta di metodo quindi, una finestra sulla realtà e uno stimolo culturale ad accorciare quelle distanze di cui diceva Paola, che non ci sono in realtà tra noi e questi obiettivi ambiziosi da raggiungere. È vero, è stato un anno, quello trascorso, molto difficile, molto, e ci aspetta un altrettanto periodo impegnativo, ma non ci dobbiamo scoraggiare. Gli obiettivi ci guidano, non sono lontani da noi e ciascuno di noi può operare delle scelte concretamente ogni giorno in quella direzione. E concludo ancora ringraziandovi e dicendovi che come imprenditori sociali crediamo in un'economia civile, ci ispiriamo ai principi fondamentali del movimento cooperativo e dell'economia di comunione e quindi proponiamo un modello concreto di intervento economico. Agire con responsabilità, ci ricorda il professor Zamagni, non significa solo fare bene e agire responsabilmente, fare bene e risolvere i problemi qui e ora. Agire scelte, che siano politiche, economiche o sociali, con responsabilità, significa farsi parte attiva del cambiamento nella direzione della realizzazione del bene comune. Ecco, con la finestra sulla realtà, noi vogliamo dare proprio un contributo in questa direzione. Allora, grazie, grazie a Simona. Tra l'altro mi ha fatto venire in mente un proverbio africano al quale sono particolarmente legata, che dice se vuoi andare veloce corri da solo, ma se vuoi andare lontano corri con gli altri. E penso che riassuma in maniera plastica quello che tu hai detto finora. Per continuare appunto su questo filo rosso della cooperativa, del lavorare insieme per costruire veramente un futuro concreto per tutti, lascerei la parola adesso a Stefano Granata, presidente nazionale di Conf Cooperative e Feder Solidarietà. Così sentiamo anche il suo punto di vista. Grazie. Grazie Paola, un caro saluto a tutte e a tutti, ringraziandovi per l'invito, di cui sono molto fiero e molto orgoglioso, perché rappresentando le tante cooperative sociali di Rente Conf Cooperative e Feder Solidarietà, è evidente che Tassano Servizi Territoriali è una sorta di icona di questa fase di passaggio che stiamo attraversando, alla quale siamo chiamati anche come cooperazione sociale. Dico anche che l'evocazione della finestra solidarietà è molto molto bella, probabilmente è andata al di là anche delle vostre aspettative. Se pensiamo quanto a letteratura, quanto cinema, quanta arte pittorica si sia aspirata a guardare il mondo da una finestra, che però ha tre significati fondamentali. Il primo, secondo me, è che l'affacciarsi alla finestra è l'uscire da sé, di uscire da questa dimensione autoreferenziale, di stare chiusi, di vivere solo tra i propri più vicini, più stretti, invece avere il coraggio di guardare fuori, di affacciarsi alla realtà. E appunto il secondo significato è proprio quello di abbracciare la realtà, di saper leggere la realtà. Pensiamo soprattutto in questa fase di lockdown, quanto le finestre o affacciarsi alla finestra ci ha permesso di tenere un contatto e quante persone hanno tenuto un contatto con l'esterno, con la realtà, perché magari vivevano solo nella loro dimensione domestica. Quindi questa espressione di questa realtà mi appartiene, non sono solo il mio, ma c'è anche l'altro. E la terza, quante volte succede a ciascuno di noi, ma quanto è stato raccontato, che l'affacciarsi alla finestra non è semplicemente leggere la realtà, ma imparare a immaginarla anche diversa, più giusta, più equa, più vicina ai nostri sogni. C'è l'elemento anche del sogno, di quello che può diventare l'affacciarsi alla finestra, a maggior ragione voi che vi affacciate pure sul mare. Quindi c'è questa dimensione dell'infinito che va oltre e che ci dà questa aspettativa. Però il mio applauso va anche a questa azione che il Consorzio Tassano Servizi Territoriali ha saputo fare, che è di profonda innovazione. Ha saputo coniugare e declinare quelle che sono le aspettative, che giustamente l'agenda 2030, ma l'ha saputo declinare al proprio territorio. Non le ha tenuti come elemento strato, anche quasi fantastico da poter raggiungere, ma l'ha fatto diventare un elemento terreno, l'ha fatto diventare realtà. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Guardate, forse anche questa cosa non è stata molto analizzata, ma è anche un servizio fatto alla comunità, perché è inutile dire che qui di autoreferenziale non c'è nulla, è la comunità che riconosce il Consorzio Tassano Servizi Territoriali. E lo dico anche rispetto a quello che è il tanto agognato, il tanto discurso, tanto da mettere in crisi la vita politica del nostro Paese, approvazione del cosiddetto piano di resilienza, di ripartenza. Guardate che dentro qui, dentro il lavoro fatto da Tassano, ci sono tutti i prodromi, sia nei contenuti, perché i sei indicatori comunque prescelti fanno parte del piano nazionale, che sono la possibilità di quelle risorse di poter attuare gli obiettivi dell'Agenda 2030. Quindi oggi il Consorzio sta dicendo, cara comunità, non da soli, ma insieme a tutti voi, abbiamo focalizzato, perché riteniamo che su questi argomenti, su questi temi si possa raggiungere, che cosa? Il salto di qualità della nostra comunità. Alziamo l'asticella, facciamola diventare una comunità più accettabile, dove nessuno rimanga escluso, come elemento fondante, perché tutti si possono ritrovare nella comunità, con quale stimolo? Con lo stimolo della cooperazione. La cooperazione non porta solo soluzioni, porta anche metodo. Cioè quello di lavorare insieme per gli stessi obiettivi. E quanto abbiamo bisogno oggi, in una società che anche questa fase pandemica ha fatto riscoprire più individualista, e ha esaltato probabilmente gli ego di tanti, invece riportarci e dire rimettiamoci al servizio della comunità per obiettivi comuni. Dentro l'attività di questo consorzio, c'è dentro questo spirito, e quindi anche come federazione nazionale non possiamo altra, oltre che fare tutti gli auguri dovuti, trovare tutti i suoi strumenti per poterla sostenere. In bocca al lupo. Direi che l'intervento di Stefano Granata ha detto tutto, davvero. Ha raccontato in poche parole anche la doppia anima idealista e pragmatica, secondo me, del Consorzio Tassano Servizi Territoriali, nel senso grandi sognatori che però danno poi gambe a questi sogni, e lo fanno mettendosi davvero a servizio di un territorio e collaborando, che è una parola meravigliosa, forse troppe volte usata a vanvera, ma alla quale dovremo dare veramente un po' più di concretezza. Allora, passiamo un'altra colonna di questa realtà che oggi ci ospita, ovvero Maurizio Cantamessa del gruppo Tassano, e sentiamo anche lui a sua volta i saluti e la sua introduzione. Grazie. Grazie a tutti. Sentendovi parlare, mi è venuto il pensiero di dire che la finestra che il gruppo Tassano Servizi Territoriali ha aperto oggi è una finestra che fa parte di un appartamento dove il gruppo Tassano opera da molti anni insieme. E questo insieme, come avete detto, vuol dire forza, residenza, collaborazione, vuol dire tante cose. Vuol dire, per esempio, che chi ha maggior sensibilità per, per esempio, per organizzare avvenimenti come quello di oggi, che solitamente sono molto belli e costruttivi, e la mette in campo, e altri come me che magari hanno meno sensibilità, anche perché abbiamo sempre la testa bassa sul lavoro, e ne beneficia il gruppo tutto. Il gruppo Tassano vuol dire, soprattutto per il territorio, il Tassano Servizi Territoriali, ma abbiamo anche attività di residenzialità, quindi per anziani e per disabili, e in particolare un'attività di inserimento lavorativo. Credo tanti di voi sanno che, per esempio, qui a Casarza Libure c'è una fabbrica, che noi amiamo chiamare fabbrica sociale, dove gli occupati in questo momento sono un'ottantina di persone e sono quasi tutti provenienti dalle fasce deboli, dal disagio sociale. I momenti sono questi, e credo che tutti noi stiamo vivendo in tensione H24 da un po' di mesi, da un anno a questa parte, perché sia nelle strutture residenziali che anche nei lavori, ma anche, apro un attimo un'altra finestra sulla realtà della fabbrica, che subisce un po' l'andamento anche del mercato, che è stato quasi chiuso per i primi sei mesi dell'anno, e adesso sta avendo un'impennata di richieste perché si devono riempire i magazzini delle fabbriche. Quindi in questo momento ci sarebbe il doppio del lavoro del normale. Una fabbrica sociale non è facile, non facilmente assorbe questi squilibri. Quindi siamo veramente, oppure stamattina ero in una nostra struttura dove purtroppo è entrato anche abbastanza pesantemente il virus e ne stiamo venendo fuori proprio in questi giorni. E quindi alle persone, come dicevamo prima, con alcuni di voi che ci chiedono come va, è sempre difficile rispondere, no? Ma credo che non essere soli è una cosa grande. Quindi il gruppo Tassano, in fondo, è anche e soprattutto questo. Bene, grazie, grazie Maurizio. Allora, ora prima di entrare proprio nel vivo di questo incontro di oggi, che poi come nella migliore logica del Tassano sarà anche operativo, non sarà semplicemente un tessere le lodi, insomma, di questo mosaico di anime, vi lascio alla visione di un breve video che riassume un po' quello di cui parleremo e ci introduce proprio agli obiettivi di cui ci accennava Simona. Quindi buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci tornati, quindi vedevate appunto nella grafica e in pratica sintetizzati gli obiettivi che oggi sentiremo, ci verranno spiegati e approfonditi dai vari referenti dei singoli obiettivi di singoli settori. E direi che era gioco forza a partire da quello che è diventato purtroppo di maggiore attualità, ma è anche sempre di attualità, insomma, la salute e il benessere delle persone sono la condizione sine qua non per fare tutto il resto, per poter vivere nel migliore dei modi, quindi lavorare e avere una socialità, dedicarsi agli altri, eccetera. Si parte sempre da un presupposto appunto di benessere e salute. Quindi lascerei la parola a questo proposito a Roberta Folle, vicepresidente della cooperativa Croesa, cooperativa che si occupa proprio di queste problematiche in maniera particolare. Eh, grazie Roberta. Eh, buongiorno a tutti, io sono presidente di Croesa, di una delle, delle tre cooperative del consorzio TST, ma mi occupo anche del servizio di salute e benessere e sicurezza delle nostre cooperative. Eh, che, e quindi quest'oggi vi parlerò un attimo dell'obiettivo tre dell'agenda venti trenta, promozione della salute e del benessere a tutte le età, ovviamente il calato della nostra realtà consortile, del nostro territorio. Le nostre cooperative da sempre promuovono la salute e il benessere per i loro soci, ma anche per la comunità e il territorio. Ritengo che la salute e il benessere siano due elementi fondamentali per la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle nostre aziende. Perciò le nostre cooperative hanno sempre promosso la cultura, appunto, del, del miglioramento della salute e del benessere nell'ambiente di lavoro. Infatti, tra i soci promuoviamo molto la condivisione, l'ascolto e la partecipazione attiva. Soprattutto per il mio, diciamo così, servizio di salute e sicurezza è importantissimo che i soci sappiano che si possono sempre rivolgere a qualcuno per evidenziare i bisogni, le esigenze, i dubbi, ma anche per essere proprio attivi per ritrovare le modalità e strategie per un continuo miglioramento della salute e del benessere in azienda. Penso che lo star bene con noi stessi ci permette di lavorare bene, ci permette di lavorare meglio. E' proprio per questo che da anni le nostre cooperative hanno attivato delle strategie per aiutare i soci a star meglio, come ad esempio il telelavoro, in situazioni in cui il lavoratore non riesce a venire a essere in ufficio, per quelli che lavorano in ufficio e riescono a lavorare da casa, se hanno malati, bambini piccoli. Le donne che devono rientrare dalla maternità, magari hanno bambini piccoli, hanno bisogno di un orario di lavoro più flessibile, ma anche un sopporto psicologico per chi ne avesse necessità. E anche la riprogettazione di persone che rientrano magari al lavoro dopo un periodo di inattività, di malattia, e che non possono più far quello che facevano prima. E poi un importante investimento è quello della formazione. Formazione proprio a livello lavorativo, ma anche la formazione stessa sulla salute, sul benessere, sulla sicurezza, la teniamo dentro e cerchiamo di capire i nostri soci, che cosa evidenziano loro, quali sono le loro problematiche. Noi agiamo per il bene anche della comunità, a 360 gradi. In che modo? Erogando servizi di qualità. I nostri servizi hanno come obiettivo proprio, cioè devono essere di qualità. Perché per le persone noi abbiamo, facciamo, cioè per gli utenti dei nostri servizi, assistenza domiciliare, la sorveglianza, diciamo così, verso la prevenzione, la solitudine, abbiamo dei servizi di custodi domiciliari, l'animazione geriatrica, l'inclusione sociale, i progetti di vita indipendente per i disabili, e tanti altri servizi educativi per i minori. Ma anche per la comunità, eroghiamo servizi che comunque aiutano la comunità. Produciamo pasti scolastici, facciamo l'igiene urbana. In questo, per l'ultimo anno, le nostre cooperative si sono riorganizzate per la sanificazione degli ambienti, ma anche per la tutela del territorio, mantenendo aree verdi, giardini, parchi e le nostre close, no? Che sono i sentieri delle campagne. Proprio questa attività di partecipazione, no? Di tutti ci ha permesso di affrontare bene quest'ultimo anno, ritengo, perché io ero in prima linea, nel senso ad ascoltare, a riprogettare i servizi in sicurezza, perché proprio la politica, no? Delle nostre cooperative è quello di trasmettere agli altri che il miglioramento della salute e il benessere non solo è l'impegno di pochi, ma solo proprio l'impegno di tutti. Di tutti, perché solo così riusciamo ad affrontare quelli che sono i problemi che ci dobbiamo affrontare giornalmente anche con questa pandemia. E per concludere, proprio per l'esperienza, no? Che ho maturato quest'anno, ritengo che la promozione della salute e del benessere a tutte le età passa proprio attraverso una forte integrazione con il territorio, soprattutto nei sistemi sanitario, nel sistema sanitario e nel sistema sociale. grazie. Scusate, non riuscivo a riattivare l'audio. Grazie mille Roberta, perché abbiamo sentito in questo intervento come un settore fondamentale, ma come la benessere e la salute, sia in realtà un universo sfaccettato, veramente un caleidoscopio di tantissimi aspetti che immagino non sia stato facile in questo momento, in questo periodo in cui ogni giorno bisognava smontare e rimontare ed essere estremamente flessibili e pronti ad affrontare le nuove sfide che si aggiungevano a quelle che già normalmente insomma il vostro settore purtroppo vi pone sotto la lente di ingrandimento. Quindi grazie tante all'intervento di Roberta Folla e visto che parliamo di sanità, insomma non potevamo non avere come ospite, tra l'altro gli diamo il benvenuto perché si è insediato da non moltissimo, il dottor Petralia che è il direttore dell'ASD 4 Chiavarese al quale diamo appunto il benvenuto e ringraziamo di essere il nostro ospite oggi. Grazie, grazie. È un piacere potervi rivolgere un saluto che non è certamente soltanto di forma, anzi è assolutamente di sostanza. È il piacere di rivolgere un saluto a nome mio personale innanzitutto, ma a nome di tutta l'azienda sanitaria locale 4, che è una splendida azienda, sto imparando a conoscerla nelle persone, nelle eccellenze, nelle capacità di risolvere e affrontare giorno per giorno le questioni. E la prima questione che in qualche modo si pone è quale rapporto, quale relazione è in campo tra i tanti stakeholders, se si dice oggi così, portatori di interesse che all'interno di un territorio vasto, costa, introterra, parchi naturali e marini, e quanti altri angoli davvero splendidi di questo territorio sono in campo per offrire risorse, ma dall'altra parte chiedere anche risposte. E allora mi viene da dire che il primo tema che ci può trovare nel nostro confronto d'intesa è proprio il tema del quale rapporto, quale rapporto un'azienda sanitaria locale mette in campo rispetto a questi stakeholders, in particolare a tutti quei soggetti del terzo settore che nel territorio e nelle comunità operano a beneficio dei cittadini, delle persone. Penso che una chiave di lettura possa essere la dimensione di come declinare il principio di sussidiarietà all'interno di uno scenario complessivo di bene comune, perché nel momento in cui ciascuno di noi si sente chiamato e realmente opera a servizio delle persone in una logica di costruzione di bene, quell'intervento non costruisce poi una semplice somma di tanti beni, ma si va a porre come una dimensione nuova, assolutamente fondata e prospettica di costruzione di risposte che diventano un bene comune, molto di più che la singola somma di tanti beni. In questa dimensione io credo si possa davvero pensare alla costruzione di una logica di sussidiarietà che mette vicino, il più vicino possibile, chi eroga risposte ai cittadini che in qualche modo le ottengono, ma non in una banale logica di parte e controparte, ma in una logica circolare di costruzione di quel bene comune che dicevo deve vedere tutti co-protagonisti e non soltanto alcuni attori e alcuni beneficiari. In questa logica allora il mio ragionamento voleva toccare tre piccolissimi punti accumunati dal denominatore della fragilità. Si parla di salute e benessere che è un bellissimo titolo perché riflette e rilancia l'etimologia stessa della parola salute in una dimensione positiva, in una dimensione costruttiva. Allora, se noi però partiamo dal concetto di fragilità, come costruire benessere nelle situazioni di fragilità, perché non sono soltanto le persone fragili, sono anche le strutture, le organizzazioni fragili e sono anche, perdonatemi, le risorse fragili. Noi abbiamo a che fare con tante fragilità diverse che ci, come dire, richiamano a un intervento sistemico, un intervento multifattoriale, multidisciplinare, multiprofessionale. In questa logica allora affrontiamo insieme le fragilità in una logica sussidiaria, tesi al bene comune, mettendo in campo tutte quelle potenzialità, tutti quegli strumenti che ci vengono dati a disposizione. Mi verrebbe da dire quegli strumenti anche intangibili che però possono davvero rafforzare una visione e competenze, innanzitutto, una capacità di innovare e sviluppare che necessariamente consegue fino ad arrivare a una presa in carico concreta, efficace, reale, tangibile di quelle che poi diventano le risposte. Ecco, io penso, concludendo, che in un movimento circolare in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte in una dimensione sussidiaria, tesi al bene comune, il rapporto tra ASL, corpi intermedi, soggetti di terzo settore, operatori del privato sociale e anche del privato profitto. Perché no? Tutti possiamo davvero concorrere a migliorare la situazione di salute e quindi di benessere delle persone, dei cittadini, di tutti noi stessi, operatori, che siamo, come dire, accumunati da questa esigenza ontologica, mi verrebbe da dire, perché tutti siamo chiamati e ci sentiamo naturalmente chiamati a stare meglio, a stare bene, a stare bene con noi stessi, a stare bene con gli altri. Questo è l'auspicio, l'augurio che vi rivolgo insieme alle congratulazioni per questo importante traguardo, insieme all'impegno a camminare insieme in questa prospettiva, certamente convinti che insieme si raggiungono risultati migliori. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie, grazie dottor Petralia, direi che è un intervento che ha posto l'accento su alcune parole particolarmente significative. Intanto le fragilità, abbiamo imparato a capire che sono tante le fragilità appunto che presenta una realtà, un territorio, una comunità, mi viene da dire, perché è forte, sta venendo forte il sentimento da tutti i vari interventi di questo senso di appartenenza e di questa volontà di lavorare per il bene comune di una comunità coesa che sente la necessità di creare dei rapporti perché appunto, come dicevo prima, per andare lontani e quindi per porre delle radici solide non si può che lavorare, non si deve che lavorare insieme in sinergia. Naturalmente in tutta questa realtà così complicata, come dicevamo anche prima, la necessità di reinventarsi quotidianamente, di dare risposte a delle esigenze che magari nascono anche in tempi brevissimi, si inserisce senza dubbio quello che è l'istruzione, la formazione, cioè il crescere, il creare le competenze ma creare proprio gli individui, direi. E proprio di questi giorni, anzi oggi, i nostri ragazzi sono tornati a scuola, facciamo riferimento alle scuole, al 50% perché comunque la necessità di tornare a scuola era impellente da tanti punti di vista e quindi pensare e parlare a un'istruzione, a una didattica che deve essere comune per tutti, equa e di qualità per tutti, direi proprio che oggi in questa giornata in cui si è tornati in percentuali ridotte che però in classe è veramente di grandissima attualità. E quindi casca proprio a fagiolo come si dice, adesso passare all'altro obiettivo tra quelli scelti appunto dell'agenda, l'istruzione e soprattutto un'istruzione di qualità. Quindi lascerei la parola a Ilaria Forcella del Sentiero di Arianna che è un'altra delle tante anime del Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora cercherò di spiegarvi sinteticamente quello che per noi rappresenta appunto l'obiettivo numero quattro che è quello dell'istruzione di qualità. Per seguire questo obiettivo che è tanto importante per noi in realtà non significa avventurarci in un sentiero sconosciuto ma dare continuità ad un lavoro iniziato tanti anni fa e che si è intensificato e articolato moltissimo in questi invece ultimi anni. Pensando a questo obiettivo vogliamo considerare la parola istruzione nel senso più ampio nel termine quindi non solo legato al contesto didattico ma anche a quello educativo. Vogliamo pensare al verbo istruire nel suo significato originario quindi all'azione di costruire dentro immaginando di offrire ai bambini e ai ragazzi ciò di cui hanno bisogno per crescere in maniera sana e responsabile attraverso relazioni ed esperienze arrecchenti per il loro sviluppo e ci piace molto l'idea di sostenere anche i loro genitori in questo importante percorso offrendo stimoli spazi di ascolto e strumenti utili. Ogni giorno gli operatori della nostra organizzazione affianca e supportano centinaia di bambini e di ragazzi impegnati in percorsi di formazione e di integrazione li seguiamo in ambito scolastico li seguiamo nei contesti domiciliari nei servizi decreativi e negli sportelli di orientamento e negli ultimi anni stiamo assistendo attraverso il nostro lavoro appunto ad una crescita allarmante di casi di dispersione scolastica e di ritiro sociale e in questo periodo questo fenomeno si sta accentuando ancora di più tutto questo chiaramente con conseguenze con ricadute sociali ed economiche molto pesanti noi spesso come educatori come operatori sociali siamo chiamati ad intervenire quando ormai il disagio è evidente quindi uno degli obiettivi che ci poniamo il primo è quello di cercare di lavorare in un'ottica di prevenzione e per fare questo è assolutamente necessario creare una rete forte di collaborazione tra tutte le realtà presenti sul territorio e che si occupano di famiglie molte situazioni di abbandono scolastico o comunque di forte fatica a portare a termine il percorso di scolarizzazione sono legate ad una condizione di disagio individuale che porta poi ad una decisione tra virgolette volontaria ma esistono ancora troppi bambini e ragazzi che non hanno accesso all'istruzione per cause diverse per cause esterne talvolta per problemi economici del nucleo familiare come nei numerosi casi delle famiglie straniere ma non solo in questo periodo altre volte per problemi di tipo logistico la realtà del nostro territorio ci dimostra che vivere isolati può significare dover rinunciare comunque a livelli di istruzione avanzata perché mancano banalmente mancano i trasporti manca la possibilità di potersi avvicinare alle scuole e alle università per altre altre motivazioni ancora sono legate alla difficoltà di restare a scuola per tutto l'orario sempre più spesso incontriamo bambini che non possono frequentare la scuola per tutto l'orario per tutto il tempo pieno perché portano delle disabilità o delle fragilità e danno bisogno di un supporto individuale nel nostro sistema spesso non ci sono risorse sufficienti per affiancare tutti i bambini che necessitano di un aiuto di questo tipo e questo chiaramente non è non è uguaglianza e non è salvaguardare un diritto per tutti quindi tirando le fila su queste cose dette finora è quello che noi possiamo e vogliamo fare per cercare di rispondere ai bisogni del territorio e raggiungere l'obiettivo di portare istituzioni di qualità e impegnarci attraverso azioni e progetti che ci aiutino a costruire e consolidare una rete territoriale propositiva ed accogliente costituita da istituzioni scuole associazioni culturali sportive parrocchie insomma da tutti gli attori impegnati sul territorio che insieme diano vita ad una comunità educante che promuova la crescita e il benessere dei nostri giovani vogliamo aumentare le azioni di supporto alla genitorialità iniziando fin dai primi giorni di vita del bambino e portandoli affiancandoli fino alla maggiorità con interventi specifici sulle diverse fasce d'età e le problematiche correlate continueremo ad affiancare i bambini e i ragazzi nello studio e nell'integrazione cercando di supportare i più fragili con strumenti e metodi specifici e ad orientare i giovani nella scelta di percorsi formativi che valorizzino le loro inclinazioni e che li motivino al raggiungimento dei loro obiettivi professionali e personali i nostri servizi continueranno ad essere sede di tirocini formativi per dare anche questa possibilità di formazione sul campo con un tutoraggio di personale qualificato che possa affiancare i giovani ci impegniamo inoltre a garantire una formazione costante e innovativa per tutti i nostri operatori proprio perché possano realizzare le azioni di cui ho parlato sopra quindi per sostenere a loro volta i ragazzi e le famiglie in maniera efficace e stimolante quindi grazie sono tante veramente pensavo al doppio utilizzano di questi vostri interventi perché voi rappresentate appunto una finestra che avete aperto spalancato sulla realtà e quindi oggi ce ne stiamo rendendo conto di quante esigenze quante anche idee e progettualità si potrebbero portare avanti e penso che sia tutto un materiale siano contenuti che saranno utilissimi per esempio mi immagino anche alla politica del nostro territorio perché insomma tante proposte tante idee nascono proprio dal vostro lavoro quotidiano e certosino perché prendersi cura dell'individuo è veramente prendersi cura poi del nucleo familiare e tanti nuclei familiari formano le comunità e quindi pian piano ci avviamo poi anche verso gli altri obiettivi dell'agenda 20-30 però direi che l'istruzione è un altro di quei di quelle cartine di tornasole che ci possono raccontare tanto lo stato di salute della nostra realtà assolutamente grazie grazie tante Ilaria allora appunto è venuto fuori il problema delle disuguaglianze collegato all'istruzione non solo a quello disuguaglianze che sono venute fuori pesantemente proprio in questo periodo anche di pandemia proprio in rapporto anche alla frequenza scolastica al lavoro all'accesso alle professioni insomma sono veramente tante ancora purtroppo le disparità che caratterizzano queste nostre società le nostre comunità e quindi è certamente uno di quegli obiettivi che non si poteva trascurare quello del tentativo insomma di ridurre queste disuguaglianze e ne parliamo con Elena Ortica del sentiero di Arianna che è un'altra delle cooperative del consorzio Tassano Centri Servizi Territoriali Elena grazie buongiorno a tutti io sono Elena Ortica e oggi vi descriverò brevemente come noi agiamo per raggiungere quello che viene definito l'obiettivo numero 10 dell'agenda 20-30 ovvero ridurre le disuguaglianze le disuguaglianze infatti limitano fortemente le possibilità dei soggetti fragili di partecipare alla vita sociale culturale politica ed economica del proprio paese e da sempre il consorzio Tassano Servizi Territoriali e tutte le cooperative facenti parti agiscono per il bene della comunità e quindi anche per raggiungere l'obiettivo appena citato attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi socioeducativi assistenziali ed inserimento lavorativo anche noi lavoriamo per favorire l'inclusione sociale e uno degli obiettivi che ci poniamo con il nostro agire è proprio quello di creare e promuovere delle azioni che favoriscano la partecipazione dei soggetti più fragili alla vita della comunità e quindi proprio ampliare le opportunità di integrazione sociale lavoriamo e lavoreremo quindi per il futuro all'interno della comunità per sviluppare proprio una cultura dell'accoglienza per le persone più fragili e quindi per tutti favorendo la nascita e il consolidamento di una rete di sostegno di solidarietà di aiuto tra tutte le realtà presenti sul territorio proprio per attivare una comunità educante e diffondere una cultura inclusiva un altro obiettivo fondamentale parallelo a quello appena citato è quello di aumentare il livello di autonomia della persona fragile sia esso disabile fisico intellettuale il giovane l'adulto in difficoltà ma anche l'anziano stesso e lo facciamo attraverso un numero di servizi ne cito alcuni per fare degli esempi come per esempio gli affidi educativi individuali che possono essere attivati sia con convenzioni private con progetti specifici e sempre in collaborazione naturalmente con gli enti locali servizi sociali con affidi e attività in gruppo cito per esempio le esperienze di co-housing o i gruppi informali ricreativi o i centri sociali che servono proprio per ampliare occasioni di socializzazione e un tema per noi molto importante come citato prima anche dalle mie colleghe è la formazione infatti noi incentiviamo percorsi di formazione istruzione per i nostri soci e supportiamo anche le persone tragili nell'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo di tirocinio o di borse lavoro più nello specifico noi abbiamo realizzato e lavoriamo per realizzare altri progetti che vanno a sostenere per esempio le persone disabili ma non solo anche le famiglie o gli operatori dei servizi sociali proprio nel realizzare esperienze di vita indipendente o abitare in autonomia vogliamo rispondere infatti a 360 gradi al bisogno di autonomia della persona fragile che va dalla ricerca di appunto abitare da solo ma anche la ricerca di un lavoro e anche provare esperienze di socializzazione in tale ottica come obiettivo noi vogliamo cioè ci aspettiamo un rafforzamento dell'integrazione tra i servizi distenti del territorio quindi servizi sanitari sociali centri per l'impiego per il lavoro proprio affinché la persona fragile possa percepire il proprio progetto di vita come un unicum quindi casa socialità lavoro e non come un progetto frammentato attuato da servizi e uffici differenti per concludere vabbè vi do alcuni dati giusto veloci per esempio nell'ultimo anno abbiamo seguito 30 ragazzi di progetti di vita indipendente o 69 inserimenti lavorativi grazie anche per quest'ultimo passaggio appunto concreto dove si parla di dati di numeri perché è importante anche far capire che impatto sulla realtà abbiano i vostri interventi le vostre azioni e davvero poi scorrendo un po' il documento che è stato preparato che sicuramente poi sarà reso pubblico probabilmente lo troverete sul sito del consorzio ci sono davvero dei numeri importanti sui quali varrebbe la pena anzi varrà la pena di riflettere e lavorare proprio come base per costruire davvero tutti quegli obiettivi che abbiamo ancora un po' di tempo ma dobbiamo metterci veramente pancia a terra e lavorare tutti insieme perché il 2030 non è poi così distante insomma e le sfide sono davvero tante ecco dopo Elena Ortica restiamo ancora insomma in questo ambito in questo obiettivo e direi di far sentire insomma il punto di vista di Maura Meschi direttore sociale del distretto 15 e sentire insomma il suo contributo a questo proposito allora buongiorno a te allora mi sembra che già Elena rispetto agli interventi che il consorzio Tassano sostiene svolge nel nostro territorio e quando riferisco al territorio un senso un pochettino più ampio mi riferisco proprio anche a tutti e tre i distretti della nostra conferenza dei sindaci abbia toccato veramente diciamo operativamente quelle che sono le realtà sulle quali loro vanno ad agire la collaborazione col consorzio Tassano è attiva da tantissimi anni con questo obiettivo specifico che direi molto importante quello di ridurre le disuguaglianze molto importante e molto difficile ma che è una sfida che ci vede tutti quanti impegnati innanzitutto per poter garantire un accesso omogeneo alle persone ai cittadini a tutti i nostri servizi per italiani che siano di ambiti anche differenti dal sociale al sanitario dall'istruzione alla scuola dalla scuola scusate alla cultura lo sport e questo solo per citarne alcuni ed è ormai acclarato che non è possibile diminuire la povertà solo attraverso la crescita economica e che quindi è necessario proporsi degli obiettivi e dei traguardi diversi che non siano solo quelli di incentivare il reddito delle persone che noi andiamo a sostenere perché se non si promuove invece una crescita inclusiva che riguarda quindi tutti e se non si tiene conto delle tre dimensioni legate allo sviluppo sostenibile che anche il presidente la dottoressa Lizia al quale ha fatto riferimento vale a dire quella economica quella sociale ambientale non vi può proprio esservi riduzione delle disuguaglianze ridurre le disuguaglianze è anche una mission intrinseca del lavoro dei servizi sociali territoriali che sono presenti in modo molto capillare nel nostro territorio dalla costa dentro terra e sono spesso una prima antenna dello Stato di benessere o malessere delle nostre comunità tenendo conto dei traguardi posti appunto dell'agenda 2030 possiamo dire che come servizi sociali territoriali le sfide più brillanti possiamo sintetizzarle in cinque e vi dicevo appunto prima Elena Ortica e anche Ilaria hanno già fatto un po' riferimento a queste sono di fatto la crescita del reddito delle famiglie più povere e fragili con strumenti come quelli del reddito di cittadinanza e progetti di inclusione lavorativa interventi sociali ed educativi volte a favorire l'inclusione di persone disabili straniere come interventi educativi di borsa lavoro con mediazione culturale per favorire quindi gli accessi a tutti i servizi sociali e sanitari interventi educativi per ridurre la povertà educativa negli ultimi anni infatti si è molto lavorato sul contrasto della povertà educativa attraverso l'attuazione di progetti e di interventi volti a ridurre le disuguaglianze tra bambini in termini di accesso alle opportunità culturali sportive di educazione abbiamo infatti progetti sovradistrettuali che vedono interventi specifici come il progetto Policina nel ciclo solo due o tre movimenti Family Hub che gli operatori del territorio conoscono molto bene e sia con la messa a disposizione di professionisti sanitario e sociali sia di voucher per accedere a corsi specifici poi garanzia di omogeneità nei servizi attraverso tavoli di lavoro interdistrettuali abbiamo tavoli di rete tra i diversi distretti per garantire appunto modalità di accesso omogenee e quindi uguaglianza nel trattamento e nella risposta e realizzazione di progetti distrettuali e sovradistrettuali per riferire risorse per sostenere tutto il territorio in particolare i piccoli comuni che una logica di sussidiarietà che da sempre da tenere presente quindi emerge soprattutto in questo momento ed è sempre più evidente l'importanza di agire con costanza con perseveranza ed uniti insieme quindi ci vuole un impegno comune per superare la sfida a cui siamo chiamati in questo momento di particolare crisi causata dalla pandemia sono sempre più evidenti i numeri stanno aumentando le disuguaglianze a livello sociale stanno aumentando perché le persone perdono il lavoro o perché non riescono ad avere il lavoro in regola bambini e ragazzi a rischio di dispersione scolastica e altre insomma ne ho citate solo alcune quindi l'impegno e l'augurio che ci possiamo fare è quello di continuare su questa strada che ci vede io penso nel 2030 forse di essere già a casa vista la mia età insomma mio vicino a breve alla pensione quindi è sicuramente una sfida che comunque tutti quanti siamo impegnati a raggiungere e le augure che ci facciamo grazie grazie dottoressa Mischi ma non credo che il traguardo anagrafico le permetterà di allontanarsi troppo dai progetti e dalle persone che la conoscono e sono abituate a lavorare con lei in più appunto l'accento che lei ha posto su quello che è la dignità della persona penso che sia fondamentale e alla base di tutti gli obiettivi che l'agenda ma che quotidianamente insomma chi lavora per il bene comune dovrebbe porsi ed è proprio insomma la dignità nell'ambito del lavoro e anche la crescita economica è l'obiettivo del punto 8 che adesso andiamo ad affrontare e ben diceva dottoressa Mischi non è semplicemente una questione economica di raggiungimento di una certa stabilità economica ma siamo esseri umani a 360 gradi e anche noi siamo dei piccoli universi che abbiamo tante componenti e tutte hanno bisogno di essere annaffiate mi permetto di dire insomma bisogna prendere l'individuo per mano e poi la comunità e intraprendere un percorso di crescita che abbia sempre appunto la dignità della persona come obiettivo finale come traguardo come orizzonte finale e quindi appunto arriviamo a questo ottavo obiettivo dell'agenda che ben conoscono gli amici del consorzio perché se ne occupano da tanto tempo in primis Stefano Gombini vicepresidente della cooperativa il Pellicano Verde che sicuramente avrà molto da raccontarci a questo proposito Stefano non ti sentiamo ecco mi sentite? sì adesso ecco buongiorno a tutti cooperativa Pellicano Verde che si inserisce all'interno del consorzio Tassano Servizi Territoriali fa inserimenti lavorativi di fasce deboli tramite servizi ai comuni come igiene urbana manutenzione del verde raccolta differenziata e altri servizi che i comuni chiedono cosa facciamo? tutti i giorni in rete con scusate tutti i giorni in rete con lo staff delle altre cooperative costruiamo metodi di lavoro metodi di lavoro differenti fattore imprescindibile per questi metodi di lavoro è considerare la persona al centro del progetto cosa vuol dire? noi costruiamo il lavoro attorno alla persona rispettandola in ogni modo e cerchiamo di mettere la persona a suo agio motivandola accogliendola e offrendo scusate e offrendo un servizio di crescita il lavoro che tutti i giorni il nostro staff e delle altre cooperative fa è quello di dicevo prima motivare le persone perché se le persone vengono messe nei punti giusti di lavori giusti stimoliamo la crescita della persona e se la persona si trova a suo agio matura quella matura un senso il suo senso di crescita e si riscopre si riscopre per quella che è la nostra realtà occupa oggi 70 soci che portano all'interno della cooperativa diverse professionalità queste professionalità aiutano la cooperativa a crescere e quindi a sviluppare processi di occupazione gli obiettivi che noi ci diamo sono quelli di una continua formazione di un continuo monitoraggio delle competenze e investimenti su attrezzature rispettando l'economia la politica economica dell'economia green promuovere l'assunzione di giovani che possano sviluppare nuove idee e creare sinergie con altre realtà no profit e profit grazie grazie Stefano è bello insomma il cambio di prospettiva di punto di prospettiva non il lavoro al centro e l'uomo che eventualmente viene cercato per quel lavoro individuo al centro e il lavoro che gli viene costruito intorno in base anche alle caratteristiche alla formazione eccetera mi viene in mente una frase di Vittorio Hugo che diceva un po' forte ma è calzante secondo me dice non ci sono nerbe cattive né uomini cattivi ma solo cattivi coltivatori e questo probabilmente è un po' quello che il cambio di prospettiva che dovremmo porci capire che ognuno di noi è una risorsa se usata se collocata come diceva Stefano Gombini al momento giusto nel punto giusto nella sua giusta collocazione può sicuramente dare risultati estremamente positivi con ricadute positive su tutta la comunità a questo proposito restiamo sempre nell'ambito di questo obiettivo e vorrei passare la parola a Maria Diletta De Martini direttore sociale del distretto 16 per sentire appunto anche da lei dalla sua finestra che cosa che in realtà si vede buongiorno a tutti mi piaceva ripartire vedevamo Lucia Merione in realtà mi piaceva ripartire da quello che dicevate voi del lavoro intorno alle persone ma mi viene da dire che forse la logica vincente e lo penso proprio adesso mentre ve l'ho sentito dire al contrario cioè finché pensiamo che dobbiamo costruire qualcosa di specifico per qualcuno forse non abbiamo raggiunto l'obiettivo 8 l'obiettivo 8 mette così come già faceva l'articolo 23 della dichiarazione dei diritti dell'uomo il lavoro come il lavoro dignitoso come qualcosa che deve essere naturalmente così e lo deve essere per la persona che diciamo così non ha difficoltà e allo stesso modo deve essere per chi ha delle difficoltà noi in questi anni abbiamo lavorato molto col consorzio abbiamo fatto anche un progetto tanti anni fa che andava proprio nell'ottica di accompagnare le persone più fragili a cercare un lavoro un lavoro che deve essere un lavoro che rispetta i tempi della persona questo non è spesso neanche nelle realtà come dire più felici non rispetta i tempi non rispetta i tempi degli uomini non rispetta i tempi delle donne ma non rispetta neanche i tempi della persona non tutti reagiamo e siamo in grado di produrre risposte negli stessi tempi il problema della paga ecco perché anche l'articolo che dicevo prima dice che il lavoro deve permettere un'esistenza conforme alla dignità umana avere la possibilità di un reddito che permette di mantenere la propria famiglia dà dignità alla persona e lo dà anche a quelle persone con cui Stefano e la Pellicano Verde lavorano ma anche noi insieme a loro fanno più fatica e non pensiamo solo alle persone che sono affette anche da problemi sanitari ma anche persone che hanno avuto ambiti familiari in cui sono cresciuti con difficoltà è un lavoro impegnativo però è un lavoro che ci chiama a interrogarci dobbiamo farlo come istituzioni e lo deve fare la società civile dobbiamo capire che non ci sono solo alcune aziende che sono predisposte a fare questo lavoro non ci sono solo le cooperative BIMI viene da dire ma dobbiamo pensare che tutti devono avere la possibilità di essere accolti in realtà che li accompagnino li accompagnino a realizzarsi finché questa è un'eccezione noi non raggiungiamo l'obiettivo del lavoro dignitoso e non può essere appunto una singola realtà ma serve una struttura proprio una struttura a livello come dire nazionale a livello mondiale e questa struttura si crea dalla scuola si crea dagli origini si crea dall'accompagnare le persone fin da quando sono piccole ma non in quell'ottica di eccezionalità ma nell'ottica della normalità questi percorsi differenziati anche professionali dovrebbero avvenire con una certa naturalezza questo non è e dovrebbe esserci la possibilità di un collegamento diretto tra la fine della scuola e l'inizio di un'attività lavorativa remunerata o anche non lavorativa remunerata ma che sia comunque esperienziale questo manca e fa sì che spesse volte soprattutto laddove non ci sono famiglie non ci sono ammortizzatori di altro tipo le persone restino abbandonate e questo sicuramente fa male noi tentiamo diceva anche prima la collega del distrito 15 di arginare attivando degli inserimenti degli inserimenti protetti ma non sono gli inserimenti protetti la risposta o meglio non ci si può fermare lì quello che manca è la continuità e la possibilità di evolvere faccio un pezzo e poi resto lì non abbiamo la possibilità a volte di accompagnarli in uno sviluppo che li potrebbe portare a un lavoro dignitoso a un lavoro dove ciascuno di loro fa qualcosa e ne ritorna per sé qualcosa oggi si parla tanto del reddito di cittadinanza io mi chiedo se davvero il reddito di cittadinanza sia una risposta a me sembra che così come è fatto oggi il reddito di cittadinanza stia portando tanto assistenzialismo tanto lavoro sulle spalle dei comuni che si trovano a gestirlo e molta poca dignità molta poca dignità le persone quindi mi chiedo dov'è l'autonomia dov'è la capacità del territorio di assorbire queste persone non c'è è stata messa su una macchina che non riesce a partire parte molto piano perché non è stato preparato il territorio e non sono state preparate le strutture territoriali e quindi parlo delle aziende delle aziende tutte delle realtà che possono poi assorbire al proprio interno queste persone e dargli una prospettiva che non sia solo il faccio qualcosa perché lo Stato mi dà ma possa poi evolvere anche lì in qualche impegno lavorativo concreto ecco mi pare che finché pensiamo all'eccezionalità del lavoro per le persone fragili per le persone più in difficoltà continuiamo a guardare dal punto di vista sbagliato grazie grazie direi che è una riflessione estremamente importante il grande passaggio è veramente da passare da una mentalità e da una società che punta sull'assenza sì vabbè sul sostenere le persone solo con contributi economici assistenzialismo non mi veniva scusate a invece creare e dare una dignità reale alle persone cioè dandogli la possibilità di creare dei percorsi lavorativi e di vita e che non siano l'eccezionalità ho ben compreso il messaggio insomma che arriva da quest'ultimo intervento che però ci sottolinea come purtroppo le disuguaglianze siano ancora tante troppe e quindi che il lavoro in questo senso per il raggiungimento dell'obiettivo sia probabilmente ancora lungo e ancora difficile lo chiediamo a questo proposito a Silvia Cozzi sempre Consorzio Tassano Servizi Territoriali per capire insieme a lei insomma a che punto siamo e ascoltare dal vostro lavoro che cosa dovremmo e possiamo fare insomma buongiorno buongiorno allora garantire pari opportunità nel mercato del lavoro significa combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere il mio lavoro mi porta comunque a dare dei numeri quindi ho analizzato la nostra organizzazione per il triennio 2018-2020 e riporto alcuni dati allora in questo triennio sono state erogate 714.000 ore di lavoro da parte di donne scusate e 518.000 da parte di uomini quindi un totale di circa 1.232.000 ore di lavoro assenze per bisogno di conciliazione sono state sempre nello stesso triennio 38.000 quindi dai lavoratori è stata fruita un'ora di permesso retribuita per necessità di conciliazione ogni 32 ore lavorate di queste 38.000 37.000 sono state fruite da donne mentre solo 1.000 dagli uomini questo porta che le donne hanno fruito di un'ora di conciliazione ogni 19 ore lavorate contro un'ora di conciliazione ogni 518 lavorate da uomini tra le ore di assenza per i visioni di conciliazione abbiamo 8.800 ore di maternità facoltativa fruita dalle mamme questo porta a una riduzione della retribuzione del 70% quindi a fronte delle ore totali di conciliazione il 23% hanno subito una perdita di retribuzione nella nostra organizzazione abbiamo contratti a tempo determinato a tempo indeterminato e anche rispetto a questo vi do due numeri sulla situazione dell'ultimo triennio a tempo determinato 6% donne 5% uomini a tempo indeterminato 56% siamo donne e 33% sono uomini all'interno del consorzio Tostano Servizi Territoriali è attiva la filiale di Cooper Job SPA agenzia per il lavoro dipendenti della società siamo per il 90% donne mentre il personale inviato al lavoro in somministrazione dalla filiale stessa e parliamo nell'ultimo triennio di circa 1330 rapporti di lavoro avviati il rapporto è del 40% donne e 60% uomini quindi all'interno dell'organizzazione in cui lavoro e che rappresento vi è un alto livello di partecipazione femminile al mercato del lavoro e con una percentuale di stabilizzazione decisamente molto alta la stabilizzazione e la permanenza al lavoro sono garantite anche grazie a progetti di inclusione e di supporto alla conciliazione che il il consorzio offre ai lavoratori in tutto il periodo in cui lavorano all'interno dell'organizzazione alle volte anche oltre lo sportello conciliazione che è attivo presso l'ufficio personale è il luogo dove tutte le colleghe e i colleghi si rivolgono nel momento in cui necessitano di assentarsi dal lavoro per bisogni di conciliazione che sia essa maternità assistenza figli minori assistenza a familiari con bisogni speciali anche ai genitori anziani la proporzione del servizio a sostegno delle persone in fase delicate della vita diventano quindi strategici per permettere alle persone di vivere un momento particolare e di rientrare poi al lavoro al momento giusto quando questo periodo termina periodo marzo giugno 2020 pandemia lo sportello ha comunque garantito l'assistenza a tutti i lavoratori a distanza e l'approfondimento delle norme specifiche nazionali proprio legate alla pandemia ha permesso a numerosi colleghi di perfezionare pratiche per poter fruire di periodi di assenza retribuita senza andare ad incidere negativamente sulla propria retribuzione nello sportello conciliazione nel triennio analizzato le persone che si sono rivolte allo sportello per bisogni diversi sono state 108 di cui solo 9 uomini oltre a questi accessi sono pervenute sempre all'ufficio 160 più di 160 richieste di assegni nucleofamiliare quindi le famiglie sono molto numerose rispetto alle assenze per conciliazione lo sportello si fa carico del controllo e del supporto al reperimento delle pratiche burocratiche amministrative che il lavoratore smaltisce in autonomia e fa da collante poi con i settori tecnici per la pianificazione dell'attività al momento del rientro al lavoro progetto per il futuro riuscire a supportare le persone con uno sportello che le possa prendere in carico maggiormente anche sulle pratiche amministrative supportare per la stesura delle domande da presentare diversi enti aiutare i colleghi ad accedere a finanziamenti opportunità a bandi il tutto funzionale ai propri bisogni affinché possano ancor più sviluppare le proprie personali carriere professionali concludo dicendo che mi reputo donna fortunata per poter lavorare e rappresentare organizzazioni dove non è necessario conteggiare le quote rosa dove noi donne siamo partecipe protagonista all'interno delle nostre aziende nella nostra interezza essere lavoratrici donne mamme e figlie quindi inizio questo 2021 con una visione progettuale per un miglioramento costante e confido di poter lavorare con persone che vogliono insieme alla nostra organizzazione un po' come è questo tavolo oggi raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati grazie 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 Silvia Cozzi insomma il quadro dei dati e dei numeri la dice lunga di quanta strada ci sia ancora da fare ma anche questa progettualità questo slancio verso il futuro e questi suggerimenti dimostrano che la strada è lunga ma si può fare con se sia ben chiara la realtà nella quale si vive e si lavora insieme adesso passiamo dalla finestra diciamo più locale invece è una finestra più ampia sempre sul sul problema dell'uguaglianza di genere e ne parliamo con Anna Manca presidente della commissione donne e parità alleanza cooperative buonasera a tutti non la vediamo ecco sì adesso sì attivo l'audio sì mi sentite sì 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 ok grazie infinite per essere presente a questo importante evento organizzato dal consorzio ascoltando le parole di tutti gli interventi devo dire che ricorre l'impegno concreto fattivo del consorzio così come di tutta la cooperazione sociale sui territori per rimuovere ostacoli e se stavamo parlando dei gol dell'agenda 20-30 ancor più a me ritorna alla mente l'articolo costituzionale che vuole l'impegno dello Stato di rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono la realizzazione piena del cittadino che si pone poi al servizio del paese è ovvio che il tema del lavoro è uno degli elementi preponderanti e anche per uno sviluppo e quindi nel modello di sviluppo dell'agenda 20-30 che è un modello di sviluppo economico sostenibile eco è chiaro che il ruolo della donna viene a diventare centrale proprio perché partecipe in maniera attiva allo sviluppo e quindi non è solo un discorso di diritti e di parità dei diritti ma è proprio un elemento sostanziale dello sviluppo e l'elemento sostanziale dello sviluppo come dicevo si gioca soprattutto sul tema lavoro e quindi come diceva bene Silvia il tema della rimozione degli ostacoli all'occupazione femminile che ahimè oggi si centra fondamentalmente con la mancata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro considerate che nel 2019 quindi prima della pandemia ben il 4% in più di donne ha abbandonato l'opportunità lavorativa l'impiego perché non era possibile conciliare i tempi di vita e di lavoro condivido un cammino molto lungo con il consorzio servizi territoriali proprio su queste tematiche un impegno concreto che ci ha visto insieme ad andare ad analizzare i bisogni e organizzare risposte perché appunto il consorzio da tempo lavora su queste tematiche e non solo guardando a se stesso tornando un po' alla metafora della finestra da sempre non si guarda solo all'interno della propria azienda ma le cooperative sociali quando profondamente radicate sul territorio possono agire un ruolo importantissimo anche per sostenere le piccole medie imprese di cui è soprattutto costituito il tessuto economico del nostro paese nell'andare a erogare e a rispondere ai bisogni di conciliazione che non sono solo quelli della prima infanzia ma sono anche come diceva Silvia la possibilità di essere figlie perché poi a un certo punto vi è anche tutto il tema della cura degli anziani piuttosto che della disabilità su questo vi è da fare ancora molto lavoro gli ultimi documenti che sono anche stati citati le ultime azioni che il governo che stiamo appunto che si sta per andare ad affrontare sta insistendo molto sull'infrastrutturazione sociale il family act andava un po' in quella direzione devo dire che più che erogazioni monetarie avremmo bisogno appunto di diffusione accessibilità di servizi sul territorio sempre più organizzati sartorialmente sempre più atti a rispondere non la singola azienda ma appunto i territori e le comunità in modo che che vi siano servizi che consentono alle donne di andare a lavorare quindi di realizzare quella piena occupazione che significa anche andare a valorizzare tutte quelle competenze che di cui le donne sono portatrici noi sappiamo che le performance ad esempio all'università nei percorsi scolastici sono performance ottimale quindi perché sprecare tutto questo capitale sociale su cui la nostra comunità su cui il nostro paese è investito se poi non riusciamo a inserirle al lavoro auspichiamo che come da legge di bilancio ci siano degli strumenti per l'incentivazione all'occupazione femminile che quindi porterebbe l'Italia e deve portare l'Italia a standard europei decisamente più elevati per occupazione l'importante è che se poi io do l'agevolazione all'assunzione di una donna poi la donna possa davvero andare a lavorare perché ha tutti i servizi necessari e l'infrastrutturazione sociale vuol dire dare grandi opportunità ai piccoli e alle piccole cittadine del nostro paese di fare quei percorsi educativi che sono stati ben delineati per diventare cittadini a tutto tonno e attenzione perché laddove aumenta l'occupazione femminile quindi vi è un percorso dello sviluppo economico di quel territorio laddove l'occupazione aumenta vi è un fenomeno di contrasto alla denatalità che è un altro degli elementi cruciali a cui noi non possiamo più far finta di niente nel senso che la denatalità è un problema che fra qualche decennio comincerà a essere un elemento decisamente pesante pesante vi è poi vi sono ancora un po' di elementi qualificanti che sono quello di implementare l'imprenditorialità femminile che è anche una soprattutto attraverso la cooperazione che è uno degli strumenti con cui le donne riescono a valorizzare le proprie competenze perché spesso laddove non si riesce a valorizzare i propri percorsi formativi le competenze acquisite non si viene selezionate nell'azienda a questo punto l'autoimprenditorialità può essere sicuramente uno uno degli elementi chiudo dicendo che non dobbiamo trascurare l'attenzione quando parliamo di uguaglianza di genere anche al tema del contrasto alla violenza che è un tema peraltro ben inserito all'interno del gol numero 5 e che deve avere tutta l'attenzione che merita e credo che un consorzio come quello dei servizi territoriali solo che per l'attività che fa educativa solo che per tutta la cura che abbiamo visto nei confronti del personale sono percorsi di sensibilizzazione molto importanti oltre che poi tutto il tema dell'inclusione lavorativa e quindi dell'autonomia economica che le stesse donne vittime di cui hanno bisogno le stesse donne vittime che proprio attraverso l'inclusione lavorativa all'interno delle cooperative sociali possono essere come dire raggiunti obiettivi importanti ancora un grazie ancora tanti auguri credo che davvero sia stata un'azione innovativa perché ci si fa portatori di bisogni e si va davanti alle istituzioni a dire ci siamo perché il pubblico da solo non ce la può fare e credo che questo sia l'esempio oggi sia l'esempio chiaro di quanto attiva può essere la partecipazione e la propositività e quindi non solo riparatoria ma generativa che la cooperazione e la cooperazione sociale possono fare sui territori grazie grazie anche in questo intervento innumerevoli spunti sui quali varrebbe la pena di soffermarsi e anzi aprire dei tavoli di discussione e speriamo insomma che il Consorzio Tassano colga l'occasione per avendo oramai aperto questa strada possano diventare quasi appuntamenti periodici perché davvero gli argomenti sul tavolo sono tantissimi pensavo alla denatalità e in una provincia in una regione come la Liguria e la provincia di Genova purtroppo dove il tasso di denatalità e l'età avanzata degli abitanti è veramente altissimo insomma è un argomento assolutamente di grande attualità così come la violenza pensavo alla necessità di costruire con la formazione proprio una mentalità diversa nei confronti del ruolo della donna e della risorsa che rappresenta per la società che è un terreno anche lì tutto da costruire perché parliamo proprio di formazione e di un cambio di cultura direi un cambio culturale più che altro adesso direi che l'obiettivo ci costringe a spostarci leggermente da abbandonare un attimo l'individuo e la persona ma spostarci sulle nostre città sulle nostre comunità dove viviamo per vedere se effettivamente sono città e comunità sostenibili perché non si sente niente o abbiamo perso l'audio allora niente io recupero lo ridico adesso mi sentite tutti ok non so dove sono sparita comunque dicevo che adesso il nostro punto di osservazione si sposta un po' dall'individuo alla invece alle nostre città e le comunità per vedere se effettivamente insomma anche da questo punto di vista stiamo facendo un lavoro per raggiungere quello che ci richiede il gol numero undici ovvero creare delle città e delle comunità sostenibili perché ovviamente anche questo fa parte insomma di quello che l'agenda ci richiede e quindi ne parliamo a questo punto con Maria Grazia Costa direttore sociale del distretto 14 così abbiamo un po' aperto le finestre sui vari distretti con i quali il consorzio lavora e poi ne parleremo anche con Lucia Merione vicepresidente del sentiero di Arianna allora Maria Grazia Costa a lei allora buongiorno a tutti e grazie il tema della comunità mi è da sempre caro anche perché ritengo che come diceva prima Anna il pubblico non possa farcela e solo attraverso la collaborazione con il terzo settore con le associazioni di volontariato con le parrocchie con tutto ciò che è comunità con la scuola si possa davvero pensare di costruire delle comunità davvero sostenibili dove si possa vivere meglio io prendo spunto da una ricerca che sul nostro territorio è stata fatta con l'università di Padova che ha proprio messo in luce come malgrado sia un territorio ricco malgrado ci siano tanti interventi anche da parte dei servizi di tipo proattivo magari malgrado riusciamo ad attrarre e questo grazie al terzo settore soprattutto al consorzio finanziamenti da vari bandi di diverso genere purtroppo emerge un dato che ci mette in diciamo così cattiva luce rispetto a un dato regionale anche nazionale che è quello dell'isolamento e dell'emarginazione sociale quindi cosa succede abbiamo tante famiglie purtroppo isolate ed emarginate e questo non non dà diciamo così la possibilità ai nostri bambini poi di vivere appieno quella che è invece la vita della comunità quindi abbiamo abbiamo dato vita proprio ad un tavolo ad un laboratorio territoriale dove siedono come dire i servizi pubblici dove siede la ASG ma dove siede soprattutto il terzo settore che è quello che ci interessava di più coinvolgere per come dire andare a ricomporre tutta questa frammentazione che dovrebbe poi invece raggiungere queste famiglie più fragili più vulnerabili dove poter pensare dove poter iniziare a condividere un valore importantissimo cioè i nostri bambini non hanno solo bisogno di affetto di autostima di calore ma hanno bisogno di luoghi di luoghi inclusivi di luoghi dove possano come dire trascorrere il loro tempo libero dove possono intessere relazioni dove possono condividere amicizie e quindi abbiamo puntato sulla creazione di un dispositivo che noi chiamiamo vicinanza solidale noi vorremmo attraverso questo lavoro di comunità costruire una comunità dove le famiglie aiutino le altre famiglie e questo è già una cosa che avviene nell'ambito delle diverse risorse che sul territorio sono attive a favore delle famiglie ma avviene diciamo così dentro diciamo dei confini precisi di quell'associazione di quella parrocchia noi vorremmo cercare di costruire un legame il più possibile forte affinché ci sia una comunicazione più diffusa di quelle che sono le opportunità e rispetto a questo anche le opportunità di vivere un territorio che voi sapete è uno dei più belli del mondo perché se partiamo da Portofino e arriviamo a Sestri Levante sfido chiunque a dirmi che c'è qualcosa che non va in questo territorio abbiamo un territorio bellissimo da un punto di vista paesaggistico abbiamo i parchi i parchi abbiamo il mare e quindi le nostre famiglie hanno tutta una serie di opportunità di vivere un territorio a tutto tondo quindi devo dire che io come i miei colleghi ma da sempre credo nella forza di riuscire a fare questo a raggiungere questi obiettivi soprattutto attraverso la forza del terzo settore perché noi siamo schiacciati dalle regole dalla burocrazia facciamo tantissima fatica e abbiamo come diceva il direttore generale tante fragilità la prima di tutte è le nostre organizzazioni sono sempre più fragili e sempre più inadeguate a rispondere alla mutevolezza dei bisogni alla complessità abbiamo una fragilità dei nostri operatori perché siamo sempre di meno e siamo anche un po' a g alcuni di noi e facciamo fatica a rinnovarci proprio per tutte le regole e i vincoli che ci sono quindi le fragilità sono tante però abbiamo le famiglie fragili abbiamo i nostri bambini che devono crescere nel migliore dei modi abbiamo tante opportunità qua io ci credo e noi ce la faremo ne sono convinta perché io ci credo non smetto mai di credere sono determinata perseverante e positiva almeno al lavoro quindi auguri a tutti e speriamo di farcela grazie grazie tante Maria Grazia Costa insomma parlava di fragilità ma in realtà la grinta e dell'ottimismo mi sembra che non le manchi ed è una componente essenziale e mi sembra anche contagiosa perché è un po' il filo rosso che caratterizza tutte queste anime che abbiamo sentito oggi del consorzio allora adesso come dicevo prima passiamo la palla a Lucia Merione un'altra ottimista un'altra lavoratrice un altro soggetto da tenere sotto controllo diciamo così vicepresidente del sentiero di Arianna allora Lucia cosa ci dice a tuo punto di vista insomma città e comunità sostenibili se la facciamo a raggiungere l'obiettivo sì no come non ti sentiamo ferma che non ti sentiamo Lucia ecco adesso mi dovreste sentire soggetto soggetto da tenere sotto controllo un po' viva lei e quindi mi preoccupa un po' allora io sono stata chiamata ha stato scelto il bastoncino più corto per le conclusioni ma anche per parlare di quello che è un tema anche a me molto caro cioè l'obiettivo che si incentra sull'importanza di avere città e comunità ricordiamocela questa parola non si parla solo di città ma di comunità sostenibili è vero che nel mondo e anche nel nostro territorio tutta la popolazione tende per motivi ovvi direi io a concentrarsi sulle città ma stare in città non è sempre facile e non è sempre un bene nel 2020 direi che questo è apparso evidente chi aveva la fortuna di abitare a Santo Stefano Daveto durante il lockdown è stato meglio di chi viveva in centro a Chiavari faccio un esempio molto pratico e concreto per dire che non sempre le città rispondono appieno ai bisogni della salute umana durante gli interventi dei miei colleghi ma anche dei nostri ospiti che abbiamo fortemente voluto e approfitto già per ringraziare se no poi non vorrei mai dimenticarmelo invece è veramente preziosa la vostra presenza alcune parole sono tornate con forza e sono pienamente aderenti a questo obiettivo l'importanza della salute quindi la salute nelle città l'attenzione alle città come ambito in cui le malattie sono più presenti ci sono studi che dicono che l'inquinamento delle città provocano malattie l'ambiente quanto è importante curare l'ambiente ma la cura dell'ambiente passa attraverso azioni molto articolate allora mi fa piacere i miei colleghi parlavano la raccolta differenziata è prendersi cura dell'ambiente il tenere in ordine i giardini pubblici è curare l'ambiente ma così come anche lavorare nell'entroterra per pulire le creuse e fare in modo che le piogge non facciano scivolare a valle le nostre colline allora questo è il valore di porsi in un'ottica di raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 20-30 c'è un terzo tema che forse è stato poco declinato ma che a me è quello più caro non perché gli altri non lo siano ma ognuno ha le proprie priorità è il come si sta nelle proprie città nella propria comunità come si vive l'ambiente può essere perfetto la salute è dirci che stiamo tutti bene ma è anche come interagiamo gli uni con gli altri e come facciamo in modo che i nostri bisogni diventino occasione di dialogo e di confronto ci può essere una città in cui c'è un despota e decide tutto e non lascia alcuna libertà ma più fortunatamente noi non viviamo in queste condizioni e cerchiamo sempre anzi sempre maggiori di spazio di confronto e di dialogo allora questa attenzione a garantire un'interazione sana tra i cittadini di cui noi siamo parte integrante e l'amministrazione la politica con la P maiuscola è una cosa che secondo me ci vede e ci deve vedere assolutamente protagonisti prima tanti colleghi anche direttori sociali rinnovavano anche la stima nei nostri confronti ed è una cosa che a me vale più di tante cose che a volte anche formalmente si dicono poi ovvio che siamo in un contesto che abbiamo creato noi va da sé ma in realtà a me piace dire una cosa la complessità è venuta fuori in modo completo durante questo intervento e noi di fatto come consorzio sento di dire che non portiamo soluzioni cioè di fronte a certi obiettivi non è un soggetto che porta la soluzione perché di fronte a bisogni e problemi complessi non ci sono risposte facili e quindi deve essere una pluralità di visioni e di prospettive che si mettono in gioco prima il direttore Petralia parlava dell'importanza che soggetti che pensano al bene comune si mettano insieme in un'ottica di sussidiarietà ecco questo è un altro tema a me caro che è centratissimo sul discorso delle comunità comunità sostenibili perché noi siamo qui a dirci a dirvi e a proporre per il prossimo anno una una cosa cioè noi ci siamo e siamo interessati in una sorta noi ci poniamo un po' come attivatori sociali in questo caso ci siamo e vorremmo proporre dei tavoli quindi oggi l'incontro è così una presentazione in cui approfondire questi sei obiettivi e cercare di capire se sul nostro territorio dove peraltro le città grandi non sono tante e anzi ormai sono anche nella loro espansione abbastanza definite noi diciamo guardiamo al nostro territorio come a un unicum e abbiamo la fortuna di vedere la costa e l'entroterra schiacciate tra di loro facilmente raggiungibili in termini di chilometri ma lo sappiamo in realtà distanti per servizi per accessibilità il trasporto sociale che è ridotto ai minimi termini la difficoltà di accessorire ai servizi tutti questi sono argomenti che fanno parte del creare comunità sostenibili chiudo dicendo due cose ho letto due giorni fa era la giornata della comunicazione il Papa ha detto una frase riportata che mi sembrava bella e pertinente riportare qua e condividere con voi e che l'ego ha una finestra sulla realtà dice il Papa per poter raccontare la verità è necessario andare a vedere ascoltare le persone e cogliere la realtà quindi il nostro esserci e mettersi a disposizione della comunità è questo anche perché noi anche questo mi piace dirlo vorremmo parlare c'è l'impresa sociale c'è le cooperazioni ma in realtà c'è ben di più perché di tutti questi temi devono interessarsi tutti i cittadini tutti le realtà profit non profit associazione terzo settore enti pubblici e divenire così giocomando un po' sulle parole trasformare noi tutti in società per relazioni cioè ci si parla di società per azioni invece lavoriamo per diventare una società per relazioni e questo noi vogliamo essere e questo noi vi proponiamo come un po' una sfida e chiamo sfida perché perché partecipare darsi il tempo per parlare di problemi e ragionare e sognare implica anche una fatica allora la sfida quest'anno per noi è reggere questa fatica e condividerla però con voi e con altri che vorranno partecipare grazie grazie Lucia allora abbiamo imparato tante cose non ultimo che dobbiamo coniare davvero un nuovo soggetto la società per relazioni direi che è geniale e ho capito anche un'altra cosa che questo non può che essere un arrivederci che una volta aperta la finestra non si può più richiudere e quindi io ringrazio tutti gli ospiti tutti i relatori insomma tutte appunto le tessere di questo mosaico bellissimo che abbiamo realizzato oggi che avete delineato oggi con la promessa che sia davvero un arrivederci e che sia l'avvio a tanti tavoli dove sedersi perché abbiamo imparato il covid forse ci ha dato un po' la spinta che ci mancava per capire che siamo davvero tutti interconnessi ma non ce lo insegna internet ce lo insegna la natura basterebbe saper guardare ascoltare quel territorio che ci circonda mi rilascio le parole di Lucia perché abitiamo in un territorio meraviglioso e troppo raramente sappiamo cogliere insomma gli insegnamenti che basterebbe cogliere guardandoci intorno quindi come dicevamo come dicevo all'inizio vale il proverbio africano che insomma se vogliamo davvero andare lontano dobbiamo correre tutti insieme quindi spero di vedervi in qualche modo sentirvi molto presto per mettere un altro mattoncino in questo percorso verso il raggiungimento degli obiettivi che non sono solo quelli dell'agenda 20-30 ma sono gli obiettivi della vita di tutti i giorni per ognuno di noi io ringrazio davvero tanto tutti il consorzio Tassano in primis e i servizi territoriali e a presto davvero buona vita buon lavoro a tutti ciao arrivederci grazie grazie a presto ciao a tutti grazie ciao 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 ciao